Nell'ambito delle neoplasie vescicali metastatiche, l'importanza di un'attività multidisciplinare che comprenda le professionalità di oncologi, urologi, anatomopatologi, radioterapisti è fondamentale alla luce anche delle nuove acquisizioni della terapia. Il ruolo del patolo anche tende a modificarsi, a acquisire un connotato confinato non solo allo studio e all'esatta classificazione della neoplasia vescicale, quindi seguendo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e i nuovi criteri classificativi del 2016, ma anche con valutazioni mediate anche da tecniche ancillari del microambiente tumorale che comprende la neoplasia e le cellule infiammatorie infiltranti il tumore. Questo tipo di approccio, per ora ancora in fase di studio, consente di classificare la malattia in quanto tale non soltanto da un punto di vista nosografico di carcinoma rotiliale, ma anche sotto forma di possibili fattori predittivi di una terapia mirata, ad esempio oggi sarà trattata soprattutto l'immunoterapia di tumori vescicali metastatici che sembra foriera di un notevole successo in pazienti predisposti però sia per l'immunità innata sia per un'immunità tumore mediata alla risposta a questi nuovi farmaci. La collaborazione tra l'anatomopatologo, l'oncologo e l'urologo è fondamentale in quanto sarà il clinico a dover indirizzare l'analisi di test in fase ancora di studio che però d'ora in poi saranno necessari per selezionare i pazienti responsivi alla terapia. Questa collaborazione in cosa consiste? Consiste sia nella valutazione dell'aneoplasia primitiva sia nell'aneoplasia nelle sedi metastatiche, in particolare in sede linfonodale e quindi bisognerà sottoporre al patologo quesiti specifici relativi alla sua malattia sempre nel contesto di una malattia che è finalizzata a un trattamento del paziente in quanto tale quindi una terapia sistemica che possa permettere il migliore approccio ad una malattia che fino ad ora non presentava una efficace risposta alla chemioterapia.